A Rezzo è tra le città più fredde d'Italia in questi giorni e l'accesso ai servizi dedicati ai senza tetto sono infatti aumentati. Circa 30 al giorno le persone accolte dalla fraternità Federico Bindi, mentre sono al lavoro tutti i giorni i volontari di Croce Rossa e Caritas per portare una bevanda calda e indumenti a coloro che vivono ai margini. Il prossimo 14 di gennaio sarà inaugurato il nuovo dormitorio di piazza San Domenico, annuncia l'assessore Lucia Tanti sentita dalla nostra redazione. Ci saranno delle regole ben precise, dice, per avere accesso al dormitorio, tra queste la segnalazione di coloro che usufruiranno del servizio alla questura. 20 posti letto a disposizione in una struttura che a differenza delle case di accoglienza offrirà semplicemente un luogo dove passare la notte. Ci sarà un piccolo spazio anche per ospitare gli animali ma non un grande numero. Una risposta insomma a tutti coloro che in questi mesi freddi non hanno un alloggio dove ripararsi. Circa 35 le persone però, afferma ancora l'assessore, che sono state già sistemate nella nostra rete di solidarietà e poi ci sono appunto Caritas e Croce Rossa che fanno un grande lavoro insieme ad altre realtà associazionistiche del nostro territorio per fornire supporto e ristoro a tutti i senza tetto.